Sono 15 nuovi casi di variante Delta, quella indiana, accertati dal laboratorio di microbiologia di Sassari. Quasi tutti i campioni provengono dal focolaio di Trinità ad Agultu, individuati altri tre casi sospetti di variante brasiliana. Roberta Mocco. L'esito del sequenziamento ha confermato i sospetti. 15 nuovi casi di variante indiana sono stati accertati dal laboratorio di microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, che ha anche avviato le verifiche per approfondire la natura di tre casi sospetti di variante brasiliana. Per quanto riguarda i 15 casi di mutazione Delta del virus, 14 sono ascrivibili a un unico cluster. Si tratta dei campioni prelevati una settimana fa a Trinità ad Agultu, dove anche in questi giorni si sta girando il film Disney La Sirenetta e dove poco fa il sindaco ha ricevuto l'esito di 300 tamponi eseguiti ieri, appena due i positivi. L'ultimo caso di variante Delta riguarda invece un turista del Sassalese di rientro da una vacanza all'estero. Sul fronte della diffusione dei contagi, l'ultimo bollettino aggiornato a ieri segnala appena sei casi su 4.613 tamponi, ma ci sono purtroppo altri tre nuovi decessi. Buono il dato sui ricoveri, in diminuzione sia in area medica che nelle terapie intensive, dove sono ospitati attualmente quattro pazienti in tutta l'isola. Intanto un po' ovunque ci si prepara la data del 28 giugno, giorno in cui si potrà dire addio all'uso della mascherina all'aperto. Ci dobbiamo aspettare sicuramente l'allentamento generale delle restrizioni, ma questo non significa che possiamo abbassare la guardia. Abbiamo già avuto purtroppo delle esperienze passate in cui da zona bianca siamo tornati in Sardegna e in zona rossa e non dobbiamo ripetere questa esperienza negativa.